Si può dire riformiamo l'IRPEF in un sistema come quello italiano e con quali soldi lo puoi fare, professoressa? Io aggiungerei una domanda alle sue. Perché dobbiamo riformare l'IRPEF? Io credo che ci sia una priorità nel Paese e la priorità nel Paese è cercare di aumentare la crescita perché aumentare la crescita vuol dire che si produce di più, più reddito, più occupazione. Allora, siamo sicuri che la riduzione dell'IRPEF sia il modo migliore per raggiungere questo risultato? Siamo sicuri perché un po' l'abbiamo fatto in questi anni, è stato un tampone ma non ha veramente risolto i problemi della crescita che stanno su una parola sola, investire sul futuro.